E' stata ufficialmente inaugurata da Agnone la mostra del costume contadino dell'Andocciata che apre al pubblico. Un'esposizione permanente di costumi antichi che accoglierà curiosi visitatori ogni giorno. Sono oltre 150 i costumi catalogati ed esposti nell'ex chiesa di Sant'Antonillo. Una collezione che riunisce cimeli di famiglia messi a disposizione da cittadini agnonesi ma anche utensili e pezzi d'arredo. La raccolta è un vero e proprio biglietto per un viaggio indietro nel tempo alla scoperta del mondo contadino di fine ottocento e permette al visitatore di entrare in contatto con gli usi, le tradizioni e costumi di un tempo. Il percorso realizzato dai volontari è pensato per raccontare la vita domestica e quella dei campi delle famiglie che in passato hanno coltivato le terre del territorio alto molisano. Quest'anno abbiamo avuto la spinta anche dall'amministrazione comunale e con l'aiuto anche da parte loro siamo riusciti a ricreare quest'ambiente. Tutti i materiali, i costumi, c'è stata una ricerca approfondita per le case dei nostri antenati, i nostri nonni. Ciò che questo gruppo di volontari è riuscito a fare è straordinario, ha commentato il sindaco di Agnone Daniele Saia. Allestire una mostra come questa è qualcosa di singolare che però deve la sua esistenza alla generosità dei nostri concittadini. Vorremmo dedicare maggiore spazio alla mostra, ha continuato Saia, mettendo su un vero e proprio museo a tema. L'invito che rivolgiamo alla cittadinanza perciò è quello di continuare a donare, di mettere a disposizione del prossimo altri articoli così da ricostruire ancora più dettagliatamente una pagina della nostra storia, probabilmente una di quelle più autentiche. Il percorso è aperto al pubblico tutti i giorni, dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 20.